Grazie alla diminuzione del combustibile i prezzi da domani scendono di nuovo, scendono ancora. Quindi noi siamo molto ottimisti verso la stagione prossima. Si torna indietro di sei anni, tariffe tirrenia del 2015 come fossimo nel 2009. Il costo del carburante ha determinato infatti un nuovo calo dei prezzi per i passeggeri. Fa sapere la compagnia Tirrenia che a Cagliari ha ospitato l'Assemblea Nazionale degli Armatori. Il calo più sensibile, intorno al 30%, riguarda la linea Genova-Olbia. La media invece sarà circa del 20%. Per Ettore Morace, presidente di Tirrenia, la riduzione avrà i suoi effetti positivi sulla stagione turistica di quest'anno. I numeri ancora non ci sono, visto che le prenotazioni in genere seguono la Pasqua, ma si può fare già una previsione. Il mercato ritengo che migliorerà, ma saremo aiutati dal gasolio, dal prezzo del combustibile più basso rispetto all'estate scorsa e quindi i passeggeri potranno agevolare di tariffe migliori. Grazie per la visione!